Buonasera a tutti. Dopo le due recenti pronunce con cui il Consiglio di Stato ha probabilmente messo fine alla vicenda riguardante il concorso per dirigente scolastico del 2017, sostanzialmente ribaltando le decisioni con cui il Tar del Lazio aveva annullato l'intera procedura concorsuale, adesso in molti si chiedono che fine faranno i molti ricorsi ancora pendenti in primo grado innanzi al Tar del Lazio. C'è da dire che il Consiglio di Stato ha messo un punto fermo su moltissime delle censure che sono state sollevate sostanzialmente quasi da tutti i ricorrenti innanzi al Tar, censure che riguardavano la procedura concorsuale nel suo complesso e sulle quali il Consiglio di Stato ha messo un punto fermo respingendole, ritenendole o generiche o infondate a titolo esemplificativo facciamo riferimento alla proroga dello svolgimento della prova per la Regione Sardegna che aveva determinato una non contestualità dello svolgimento della prova sull'intero territorio nazionale. In realtà tra i ricorsi pendenti ancora in primo grado probabilmente ci saranno dei motivi che non sono stati affrontati dal Consiglio di Stato con queste due pronunce e sulle quali il giudice di primo grado dovrà ancora esprimersi, quindi non è probabilmente definitivamente chiuso il capitolo sui problemi di carattere generale che investono l'intera procedura, che però possiamo dire quasi sicuramente può ritenersi salva. Restano ancora però irrisolti e non decisi i numerosissimi ricorsi individuali proposti dai candidati che a suo tempo non avevano superato la prova scritta e che quindi hanno impugnato la mancata ammissione alla prova orale. Su tutti questi ricorsi il Tardellazio dovrà ancora pronunciarsi e quindi ci sarà ancora la possibilità, in base all'esito del giudizio, per questi candidati di poter ancora andare avanti nella procedura e quindi poter affrontare eventualmente la prova orale. Vedremo come andrà. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie a tutti.